Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video in questo video vi voglio parlare del lato oscuro della ginnastica ritmica che tutti non dicono allora, per chi non lo sapesse perché devo tenere presente che potreste essere la prima volta che siete entrati nel mio canale io faccio ginnastica ritmica in maniera autodidatta perché in passato mi sono trovata male in palestra anzi non male ma di più perché io capisco tutto tu carina non capisci niente erano tutte persone più o meno così quindi mi sono trovata male e mi alleno praticamente in un posto in cui qua ci sta una palestra non quella che frequentavo io un'altra dove si allenano le ginnaste intorno ci sta un grosso spiazzo che però lo spiazzo è di tutti quindi chiunque può andarci ci stanno i pugili che si vanno ad allenare i calciatori che si vanno ad allenare gli atleti che vanno a correre ci sta chi porta i loro cani in pratica ci sono varie tipologie di persone ci vado pure io a fare i miei esercizi e praticamente spesse volte perché io vado lì in orario scolastico vedo fermarsi delle macchine proprio lì scendere queste bambine con i loro attrezzi e entrare in palestra e chiaramente dico sì d'accordo queste qua vanno in palestra però secondo me in palestra se loro devono andare a scuola è meglio che ci vanno i pomeriggi perché comunque io vedo che stanno comunque sempre ficcati in palestra allora loro a scuola non ci vanno mai io se avessi dei figli la mattina chiaramente uno devono andare a scuola e pomeriggio in palestra posso capire che uno abbia delle gare però secondo me è un peso troppo grande da sostenere per delle bambine così piccole che appare il mio non superano i dicioni di età anche perché io comunque vedo questi genitori molto esigenti che se la loro pupilla non porta a casa il premio il primo premio botte insulti cioè per loro la loro pupilla deve essere la migliore sempre la migliore e quindi alla fine queste bambine vengono pompate fin da piccole proprio dai genitori dall'altra parte ci sono gli allenatori anche loro molto esigenti tipo che se non fanno una cosa giusta offendono e credetemi che io che sto lì fuori sento le urla arrivare arrivare da dove sto io proprio urla insulti parolacce però così facendo si perde di vista la cosa più importante che è quella di divertirsi perché fare la ginnastica ritmica non è andare alle olimpiadi non è fare una gara non è fare una manifestazione non è finire sul giornale queste sono tutte vittorie secondo me di cartone perché la vera vittoria è quella che noi abbiamo nel cuore ci piace fare una cosa la facciamo a prescindere dal risultato finale questa è la vera vittoria che poi ho notato che queste ginnaste crescendo diventano tra virgolette viziate perché perché io vedo ginnaste grandi tra virgolette grandi tipo 12 13 anni 14 insultare delle bambine piccole di 4 5 anni che hanno appena iniziato per esempio ci sono dei genitori che pubblicano video sui loro canali delle loro figlie che hanno appena iniziato le loro figlie hanno tipo 4 5 6 anni e queste bambine più grandi commentano dicendo sei stupida non sai fare niente fai schifo e cosa è così io mi ricordo di un episodio che mi successe anni fa c'era una mia vecchia compagna di scuola non di classe per fortuna che faceva ginnastica ritmica io a quei tempi facevo parte di un gruppo cioè di una pagina che seguivo avevano detto creiamo un gruppo al telefono chi vuole farne parte io ho detto va bene ci sto chiaramente tutto lascia il mio numero mi hanno inserito e praticamente in questo gruppo io ero la più grande erano tutte più piccole di me e praticamente siccome eravamo poche tipo sette otto ragazze diciamo così chi aveva avuto l'idea che poi questa qua che aveva avuto l'idea del gruppo in realtà ci aveva nominato tutte amministratrici quindi per inserire qualcuna non c'era bisogno che facevamo riferimento a lei perché ormai tutti avevamo lo stesso diritto e praticamente è successo che lei ci aveva detto guarda diciamo così visto che siamo poche perché non cercate altre da inserire perché più siamo meglio è e io alla fine la prima persona che mi venne in mente fu questa ragazza la contattai in privato le ho detto ciao vuoi farne parte di di un gruppo così dove di ginnastica ritmica lei mi ha detto ma che utilità mi fornisce e ho detto ma non lo so lì ci sono altre ginnaste provenienti da tutta Italia ti puoi confrontare puoi vedere vedi se ti piace e lei mi ha risposto ma ci stanno ginnaste a livello mondiale perché se è un gruppo di di ginnastine da due soldi allora no e io le ho detto le ho detto le ho detto no a livello mondiale no però fidati che sono brave alla fine io ho mandato una foto di una ragazza del gruppo che faceva un esercizio veramente molto difficile in cui faceva tipo tipo il ponte però molto piegata con la schiena la gamba tutta sollevata vabbè ci siamo capiti però era un esercizio molto difficile e io le ho detto ad esempio lei non puoi dire che non è brava e lei mi manda una una foto di una ginnasta molto famosa rossa e e lei mi fa dopo questa foto mi manda anche un messaggio ecco preferisco avere contatti con lei e io giustamente le ho risposto ho detto sì d'accordo ma lei già ha troppi ammiratori cioè non ti sembra un po' di esagerare e lei mi fa tutta così e no carina io il numero sia il suo che di altre ginnaste molto famose certo comunque lei tutta in maniera troppo piena di sé e ariosa mi ha mandato il numero mi ha detto e vabbè comunque il mio numero è questo e io alla fine che cosa ho fatto ho deciso di vendicarmi e di darle anche una lezione di vita cioè che cosa ho fatto l'ho inserita in questo gruppo perché ormai avevo il suo numero l'ho inserita e poi praticamente dopo che l'ho inserita questa qua non ha detto una parola cioè di solito quando ti inserisco in un gruppo ti devi presentare devi dire ciao mi chiamo così così vivo in questa città o ho questi anni qua e basta cioè questo più o meno però lei niente cioè io l'ho inserita lei niente dopo un po' dopo un po' cosa ho fatto mi sono vendita dalla grande perché? perché l'ho rimossa dal gruppo perché essendo io amministratrice potevo farlo così come l'ho inserita l'ho fatta anche andare a calci in culo vabbè scusate e dopo di che praticamente ho dato anche una spiegazione alle altre ragazze scusate ragazze ma ho dovuto rimuovere questa ragazza perché lei poverina non poteva abbassarsi a stare con noi comuni mortali con ginnastine da tuoi soldi e chiaramente tutti le hanno dato addosso ecco ventista carina perché nella vita ci vuole umiltà e non essere tipo io so tutto io ma abbassa un po' la cresta e scendi da quel piedistallo che non sei nessuno bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e non dipendicatevi di iscrivervi a questo canale a presto